salve ragazzi allora in pratica oggi vi voglio mostrare questo problema allora la caldaia già da tempo perde continuamente pressione perde continuamente pressione quando accendo i termosifoni allora inizialmente la prima cosa che ho fatto è stata quella di provare a vedere se il pallone cioè il vaso di espansione era scarico con un compressore l'ho gonfiato ho misurato e tutto a posto acqua all'interno non ce n'era e problemi zero la seconda cosa ho visto le tubature se perdevano nient'altro e non c'era nulla di cui preoccuparsi la terza cosa ed ultima che è stata la peggiore è questa allora l'ho smontata completamente come potete vedere ho tolto il coperchio che c'era qui dove c'è lo scambiatore e togliendo questa parte questo laterale che non consente la fuoriuscita di calore l'ho sfilato e ho potuto notare che all'interno come si può ben vedere c'è una ruggine quindi significa che la perdita di pressione all'interno dell'impianto non è causata da una perdita nell'impianto ma bensì dalla rottura dello scambiatore quindi adesso la cosa da fare è quella di sostituire lo scambiatore perché come potete ben vedere adesso un attimo che zoom come potete ben vedere si è lesionato questa è la causa purtroppo quando perde pressione le possibili cause possono essere perdita d'acqua da qualche parte oppure il vaso di espansione che non ha non ha la corretta pressione questo è tutto ragazzi ho condiviso con voi ciò che ho scoperto oggi ciao ciao